Buonasera, ben ritrovati, un'altra puntata di Angoli da passare assieme. Come sempre la iniziamo ricordando la mail per comunicare con la redazione del programma angoli-espansionetv.it Mi raccomando, scriveteci per richiederci anche consigli oppure richieste di approfondimenti, insomma, magari anche qualche critica. Adesso non perdo altro tempo e vado a presentare l'ospite di questa prima parte della puntata, Manuela Lozza. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, tu sei una collega giornalista, quindi direi diamoci del tu. E di recente hai anche pubblicato un libro, La milanesa e l'amica immaginaria. Eccolo qua. Io direi, partiamo subito un po' con il raccontare, come è nato questo libro, perché ti sei trovata a scriverlo, come l'hai scelto, anche il tema. È un noir, per cui non ci possiamo sbilanciare troppo sulla trama per non svelare troppo. Però, ecco. La milanesa e l'amica immaginaria è il seguito, se vogliamo, anche se in realtà è una storia a sé, di un primo capitolo che è La milanesa, soltanto, che è uscito poco più di un anno fa, e che è la storia di questa poliziotta lombarda che sceglie volontariamente di andare a lavorare a Napoli, dove ovviamente troverà un clima molto più movimentato di quello che poteva trovare nella piccola provincia lombarda, nella cittadina satellite lombarda. E quindi ecco che per le indagini non bastava un romanzo soltanto, ma ne sono venuti fuori due. Questo, dicevo, è il seguito. In realtà è una storia a sé, quindi si può leggere tranquillamente senza aver letto il primo. Tanto per quanto riguarda la storia gialla, la trama gialla, anche per quanto riguarda la storia personale della protagonista e dei suoi colleghi. Però di fatto sì, prende il via da un romanzo che è uscito un anno e mezzo fa. La protagonista femminile è Michela Borellini. Allora io direi, com'è che si sceglie una protagonista femminile da far muovere anche nell'ambiente del noir, del giallo, dell'inchiesta? È una scelta particolare. Sì, perché in realtà io, fino a pochissimo tempo fa, il mio istinto sia nei racconti, che nel precedente romanzo, proprio il primissimo che è uscito qualche anno fa, distinto i miei protagonisti erano sempre uomini. Le donne erano sempre dei personaggi un po' di contorno. Invece questa volta Michela mi si è presentata. Una sera non riuscivo ad addormentarmi, penso lo si faccia un po' tutti, forse più nell'adolescenza, io sono rimasta un po' a quel momento. Non riuscendo ad addormentarmi mi inventavo storie. Mi si è presentata questa ragazza, questa giovane donna, e doveva essere per forza una donna, perché si è presentata a me tramite un aliason che stava avendo, raccontandomi una storia che stava avendo. Quindi da lì è nata la donna Michela Borellini. Poi quando mi sono seduta alla scrivania, lei mi ha detto, guarda che sono un poliziotto, e lì è stato noir. Ok, è andata così, che bello questo dettaglio di come è nata. Peraltro non è semplice neanche, dal punto di vista della scrittrice e dell'autrice, misurarsi con questo genere. Poi è anche l'ambientazione a Napoli. Molto spesso si sente dire, anche dagli ospiti che sono passati qua in trasmissione, che uno scrittore scrive quello che conosce. Ovviamente immagino che tu non abbia direttamente a che fare con dei casi di omicidio. Esatto, con la criminalità così. Come è andata? Allora, per quanto riguarda Napoli, torniamo al discorso dell'adolescenza. Io da adolescente, tutte queste vacanze a Napoli, l'ultima volta che ci sono stata a presentare, per mia grande fortuna, al gambrino, sì, il romanzo, ho fatto il calcolo ed era la quattordicesima volta che andavo a Napoli, quindi è una città che conosco abbastanza bene. E mi è venuto automatico a ambientarla lì. Poi mi faceva più da cartina di tornasole, perché sai, un conto è ambientarla a Varese, a Como, piuttosto che dove la criminalità è minore. Un conto è ambientarla a Napoli dove veramente ogni giorno puoi avere un caso diverso, purtroppo. Invece per quanto riguarda la conoscenza dell'aspetto criminale, lì mi sono avvalsa di consulenze, di persone che ne sapevano più di me. Nel primo mi sono addentrata meno nelle dinamiche criminali, specialmente della criminalità organizzata, e quindi ho potuto anche approfondire un po' meno. Invece in questo caso mi sono proprio avvalsa della collaborazione di un PM milanese che si occupa di criminalità organizzata, che mi ha dato delle dritte, ma che per ovvi motivi non posso citare. Certo, certo, altrimenti si toglie un po' anche il gusto della sorpresa. Sì, e poi penso andrei in galera per parte di questo. Va bene, allora non delunghiamoci oltre, perché proprio per evitare di fare qualche gaffa io nel raccontarvi, nell'intervistare l'autrice Manuela, mi sono letta soltanto le prime pagine. Prima di arrivare a queste prime pagine, quindi al primo capitolo, ho letto la dedica, che di solito è una cosa che si scrive alla fine. Allora, mi ha incuriosito molto perché tu questo libro lo dedichi ai generosi, ai gioiosi, a quelli che camminano. Com'è che è andata? Perché anche sulle idee di che... Ai generosi e ai gioiosi, perché io proprio amo quelle persone che nella vita, al di là delle contingenze, però cercano di essere sempre positivi per se stesse e per gli altri. Quindi quella è la spiegazione della prima parte. E poi io in generale, in senso tanto fisico quanto metaforico, adoro le persone che camminano. Cioè, detto, proprio quelli che vanno a piedi, che cercano di usare la macchina al meno possibile, avrei potuto scrivere a quelli che corrono, che vanno in bici, cioè a quelli che non usano la macchina. E poi ovviamente anche in senso metaforico, cioè a coloro che non stanno fermi, ma che cercano sempre un po' di progredire, anche di inseguire dei sogni, come sto cercando di fare io, per ora va, crociamo le dita. Insomma, hai fatto una bella dedica, mi piace molto. Per quel che riguarda invece anche nuovamente il personaggio, lì è stato un po' un amore. Si dice che allo stesso modo gli autori provano affezione, non sarebbero capaci di introdurre e portare avanti la storia di un personaggio di per sé negativo. Però poi qualcosa, qualche contraddizione deve avere, altrimenti sarebbe perfetto. Per forza. Quindi in questo caso com'è stato il rapporto col protagonista? Come dici tu è stato bivalente, nel senso che da una parte sicuramente Michela ha anche delle caratteristiche che sono un po' anche di Manuela, cioè qualcosa di autobiografico nel personaggio c'è, e lì sicuramente c'è l'aspetto più critico, perché sai, è un po' come si fa con i figli e con i genitori. Cioè quando riconosci qualcosa di tuo negli altri, compreso il tuo personaggio, di solito quel qualcosa ti innervosisce molto, ti fa dire guarda come sono fatta. E poi invece c'è un aspetto completamente contrario, di cose che io invece avrei voluto essere, avrei voluto fare un'altra vita possibile, chiamiamola così, e che invece non ho fatto. Oppure proprio di aspetti caratteriali che mi piacerebbe avere, una certa tostaggine, una certa capacità di dire le cose in faccia, che io assolutamente non ho specialmente sul lavoro, e che invece lei ha, e che mi ha portato in questo anno e mezzo molto spesso a dire, no, aspetta un attimo, cioè quando stavo per piegare la testa a dire, no, un attimo, come avrebbe fatto Michela Borellini? E a cercare di agire come avrebbe agito lei. Quindi è un personaggio che sicuramente mi ha aiutato da questo punto di vista. E l'amica immaginaria del titolo la ritroviamo? La ritroviamo nel senso che ci sono almeno tre figure che possono essere l'amica immaginaria. Ovviamente quando io ho dato il titolo, io e il mio editore complice, avevamo in mente quale di queste tre figure fosse, però poi chi l'ha già letto mi ha detto, ma guarda forse potrebbe, quindi vi lascio decidere chi sia l'amica immaginaria. Senti, tu questo libro peraltro in settimana lo presenterai anche qua a Como. Lasci un po' l'appuntamento. Allora, ci vediamo alla Feltrinelli di Cantù, venerdì 4 alle 18.30, e sarà per me un bellissimo ritorno, perché l'anno scorso andai sempre lì a presentare il primo capitolo e andò veramente bene, a parte le vendite ovviamente, ma anche proprio l'affluenza di pubblico e l'affetto che i comaschi mi hanno fatto trovare, quindi spero semplicemente di replicare quello che è stato fatto l'anno scorso. A proposito di affezionati lettori, hai detto che la milanesa è già alla seconda avventura. Dobbiamo aspettare un'altra notte in sonno o sei già lavorando alla terza? No, guarda, sicuramente materiale per una terza avventura c'è, anche perché Michela, come scoprirete leggendolo, è una grande pasticciona sentimentale. Quindi mentre il caso, il noir, diciamo, inizia e finisce in modo netto all'inizio e alla fine del romanzo, è pur vero che la parte invece più personale, pur chiudendosi, però lascia adito ad un nuovo momento. Ti dico che quando era in lettura il primo capitolo, proprio a Como, sono stata fermata da due ragazze che mi hanno detto, guarda, ho saputo che scrivi il secondo, fai quello che vuoi, ma il Manzi ci deve essere, che è il protagonista maschile. Questa volta il Manzi c'è, c'è anche un altro protagonista maschile e voglio vedere se qualcuno mi dirà chi dei due vogliono nel terzo. Bellissimo, direi che anche questo feedback estemporaneo con i lettori è sicuramente un incentivo ad andare avanti, no? Quindi l'occasione la più vicina sarà sicuramente l'incontro a Cantù, alla Feltrinelli. Grazie. A Como, in via Cesare Cantù. Ho sbagliato, hai ragione. Quindi ripetiamolo bene. A Como, in via Cesare, esatto, alla Feltrinelli Centro Storico, per intenderci così non ci sbagliamo, il 4 alle 18.30. Benissimo, grazie mille Manuela per essere stata con noi. Grazie a voi. Adesso noi con Angoli ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma come sempre torniamo tra poco. Grazie a voi. Grazie per la visione!